Buongiorno Italia. Dunque, se ci pensate bene, io sono stato chiamato nella mia carriera a doppiare centinaia di film, decine e decine di attori. Alcune frasi che ho citato in molti film sono diventate anche, come dire, iconiche e probabilmente vi trovate spesso a ripeterle così nelle vostre giornate per gioco, per scherzo. Questo. Questa volta, invece, sono stato chiamato a prestare la voce o a dare voce a quest'uomo qui, Luca Ward, Il talento di essere nessuno. Ebbene, sì, ho scritto un libro, ho scritto un libro. Sì. Ci sarò riuscito? Eh, questo, non lo so, a voi, l'ardua sentenza. Bene, Luca Ward, Il talento di essere nessuno, lo potete trovare da ora preordinabile su Amazon e su tutti gli store online. Dal 30 marzo, invece, lo troverete in tutte le librerie d'Italia. Luca Ward, Il talento di essere nessuno. Sembra quasi il trailer di un film, sto titolo. Incredibile. Eh? Ah, già, hai ragione. E manca meglio, sti cazzi.